Il nostro CAF ogni anno produce tra le 46.000 e le 50.000 dichiarazioni di erediti per tutta la provincia, quindi diciamo che siamo abbastanza esperti. La cosa è molto concreta perché il periodo è proprio quello centrale delle dichiarazioni di erediti, un periodo che voglio ricordare scade il 30 settembre, quindi entro il 30 settembre dobbiamo presentare ovviamente tutti la dichiarazione di erediti. Noi siamo molto strutturati per questa cosa, già ora abbiamo raggiunto le 30.000 dichiarazioni di erediti fatte, malgrado o anche l'opportunità che in teoria il nostro paese dà ai cittadini, c'è quello dell'autocompilato, del precompilato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, malgrado appunto ci sia questo tipo di possibilità, le persone in qualche modo si rivolgono ancora ai soggetti appunto ai nostri CAF, ai soggetti di rappresentanza collettiva per avere un ausilio, un aiuto appunto nella dichiarazione di erediti. Tanto più quando questa dichiarazione è particolarmente complessa, diciamo così che siamo il primo anno, comunque i primi anni in cui dopo i bonus edilizi e quant'altro, le persone appunto devono costruire la loro dichiarazione di erediti tenendo conto anche delle spese e anche il recupero appunto di queste spese in dichiarazione. Quindi dicevo, malgrado o ci sia appunto la possibilità per le persone di avere il precompilato, comunque l'autocompilato nel sito dell'Agenzia delle Entrate, questa dinamica ancora nel nostro CAF non ha prodotto grandi impatti in termini di riduzione delle persone che appunto si rivolgono a noi per farlo, anzi viviamo in questo momento una fase incrementale di mille persone in più rispetto all'anno scorso che si sono rivolte a noi per avere appunto un aiuto nella dichiarazione di erediti. Oltretutto anche le garanzie che possiamo dare in più come sostituto di imposta, diciamo così per quanto riguarda tutto il tema del sistema assicurativo che noi comunque diamo alle persone nel caso in punto di errori o di produzione di documentazioni non console rispetto appunto alla dichiarazione che loro vanno prestare.